La piattaforma di Open Genova si è resa disponibile per dare un contributo al bando partecipa, mettendosi a disposizione e dando la possibilità agli utenti di aprire un proprio progetto e quindi andare sul sito, registrarsi anche tramite la propria login di Facebook, altrimenti con il proprio indirizzo mail in maniera estremamente semplice e a quel punto aprire proprio appunto un progetto, un progetto con un titolo, una descrizione e alcuni strumenti interattivi come per esempio un forum di discussione. Da lì poi è possibile per altre persone aderire al progetto, quindi entrare all'interno del progetto e iniziare a comunicare all'interno del forum. Questo permette intanto un'interazione diretta e poi un'eventuale crescita dei singoli progetti che creano delle sinergie, trovano alleanze e generano poi anche questa opportunità che in partecipa come Open Genova ci piace evidenziare, di aver chiesto ad alcuni assessori del municipio centro-est di fare da tutor e quindi di entrare direttamente in contatto con chi ha presentato un progetto e aiutarlo in maniera totalmente diretta e trasparente a costruire un percorso migliore. Tutto questo è una modalità che prende il nome di modalità wiki o applicata alla pubblica amministrazione politica e wiki, per cui gli utenti indirizzati su specifiche idee progettuali vanno a collocarsi in maniera totalmente autonoma, quindi in autoselezione io scelgo di registrarmi su Open Genova, io scelgo di dare un contributo a un progetto anche se non è il mio e di posizionarsi esattamente su quell'idea progettuale dove sono più bravi e quindi questo permette di ottenere il massimo del risultato con il minimo sforzo. Questo si chiama Politiche Wiki.